Il claim di questo smartphone potrebbe essere distinguersi, è importante. In questa recensione vi spiegherò perché Motorola Edge 40 è uno smartphone che si distingue e che lo fa anche nel modo giusto, diciamo, non con delle assurdità o dei nonsense. In questa recensione ovviamente vi racconterò tutto di lui, ma se non l'avete mai fatto ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e in descrizione trovate il link al nostro canale Telegram delle breaking news. Solo breaking news, niente spam, ma adesso iniziamo. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing e questo ragazzi è veramente un bel unboxing, anzi è anche un buon unboxing perché mi sono reso conto, esatto, sto sniffando la confezione, che è profumata. Questa roba è una figata, è una figata perché? Perché è qualcosa che nessuno aveva mai fatto, utilità nessuno ovviamente, quella di profumare, di mettere una goccia di profumo all'interno di una scatola di cartone, ma è intanto cartone completamente riciclato, c'è tutti i bollini che lo testimoniano, eccolo qua, oltretutto è una scatola completamente senza plastica, ve lo confermo, è tutto senza plastica, e in più questo tocco di profumo, insomma, è qualcosa che nessuno aveva mai fatto, diventa distintivo se vogliamo, e anche nell'ottica di distinguersi non è affatto una cattiva cosa, ecco, so che qualcuno dirà, ma chi se ne frega della scatola profumata? Ecco, però è quella roba che appunto poi rimane in testa, no? Magari ancora più dei megapixel della fotocamera. Non dico che dovete comprarlo perché profuma la confezione, semplicemente che è una buona idea per Motorola per distinguersi dai concorrenti. Cover in plastica, rigida, non è che mi faccia proprio impazzire, vabbè, non mi fanno impazzire le cover, questa rigida io forse le preferisco in gomma, ma la cosa simpatica è che lascia, diciamo, liberi i lati, essendo molto sottili anche lo smartphone, e come vedete è tutto assolutamente in carta. Poi, ovviamente, lo smartphone, e poi all'interno della scatola in cartone abbiamo il cavo USB-C, USB-C, e questo che è l'alimentatore da 68 W, molto compatto, incluso ovviamente nella confezione. E partiamo parlando del suo design e della sua qualità costruttiva perché è la prima cosa in cui nettamente si distingue peso, dimensione, sottigliezza e anche, soprattutto, materiali. Ed eccolo quindi a guardare questo smartphone diverso che si vuole distinguere. Con questa finitura in pelle vegana, verde, mi piace veramente tanto, mi piace al tatto, non trattiene per niente le impronte, invece ho sentito qualche collega che ha provato la versione, quella nera, che invece le trattiene. Ah, ragazzi, questa verde assolutamente no. Qui abbiamo un piccolo gradino, vedete, ma non c'è interruzione, è tutto insieme, ma poi le fotocamere a loro volta sono leggermente sporgenti, mentre invece il LED flash è integrato all'interno qui a filo. Leggermente curvo poi qui sul bordo, dove troviamo un frame in alluminio, tasto di accensione, due tasti separati del volume, sopra l'indicazione Dolby Atmos, secondo microfono, pulito il lato sinistro, e sotto invece abbiamo USB-C, carrellino per la nano SIM singola, poi vi dirò, e poi abbiamo primo microfono e speaker. Lo smartphone pesa solo 171 grammi, è molto leggero, è ben disegnato, in mano è un piacere da tenere, le dimensioni sono 158,4 x 72 x 7,6 mm, per me questo smartphone è promosso, è veramente top da tenere in mano. Ammetto, l'ho detto sul mio Instagram personale, che mi ha un po' ricordato il GT2 di Realme, che aveva una finitura e un colore molto simile. Questo smartphone poi è anche IP68, quindi resiste ad acqua e polvere, dal punto di vista costruttivo, per chi cerca qualcosa non solo di diverso, ma anche di piacevole, sottile, leggero, da tenere in mano e da tenere in tasca, questo smartphone può assolutamente fare al caso loro. Scopriamo poi le specifiche tecniche, questo è un vero top di gamma, ma con degli spunti premium. Guardiamo questa scheda tecnica top con gli spunti premium, abbiamo un processore Dimensity 8020 a 6 nanometri, octa-core da 2.6 GHz con GPU Mali-G77MC9, devo dire, ottime prestazioni, anche sul lungo periodo non va particolarmente in termo al throttling, lo smartphone scalda un po', ecco, quello sì, quando si utilizza a lungo, per lunghe sessioni di gioco, lo smartphone tende un pochino a scaldare e a consumare un po' di più. 8 GB di RAM LPDDR4X, 256 GB di memoria interna UFS 3.1, non espandibile, un solo taglio di memoria, grazie Motorola, ah, se fosse sempre così. Connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, connettività NFC, lettore di impronte digitali all'interno del display, che è veloce, è preciso, ma è un po' in basso, vedete, è qua giù. E devo dire che non sempre è la posizione, perché quando si tiene lo smartphone, naturalmente il dito finirebbe qua su, invece il lettore di impronte è posizionato laggiù in basso. Ed è uno smartphone dual SIM, è forse, forse, non vorrei dire, il primo smartphone Android dual SIM, con una SIM standard e una eSIM, senza alternative. Qualcuno sicuramente mi correggerà, so già che quando dico secondo me è probabilmente qualcuno troverà uno smartphone invece che non è così, comunque se non è il primo è sicuramente uno dei primi, supporto eSIM per il dual SIM. Non c'è il jack audio per le cuffie, e niente, quello è morto, sepolto su moltissimi smartphone. Anche qui è così, e direi proprio che non tornerà. Display al top, non è sicuramente qualcosa su cui Motorola risparmiate, tra l'altro una caratteristica curiosa, la Motorola è l'unica azienda sul mercato a realizzare smartphone non gaming, ma con un refresh rate del display superiore ai 120 Hz, e anche questo non è da meno. Come detto, refresh rate ad altissima frequenza, ma non solo, 6.55 pollici di diagonale, la diagonale appunto di questo display, vediamo se metto, eh niente, non ho il toggle rapido per levare la modalità scura, va bene, era per farvi vedere con una schermata bianca un po' più dove arrivava lo schermo, vabbè lo vedete perché comunque il Play Store è grigino, eccolo qua, 6.55 pollici di diagonale, P-OLED, ed è un 1080x2400 pixel, un full HD+, fino a 144 Hz. 144 Hz che però sono attivabili, solo se si seleziona quella specifica voce, altrimenti se mettete automatica, ecco qua ve lo dice anche, ottimizzazione intelligente, quindi automatismo, fino a 120 Hz, no 144 Hz. È curvo sui lati, questo ragazzi, se non vi piacciono i display curvi, questo smartphone potrebbe non piacervi, a me piacciono, non aggiungono niente dal punto di vista dell'utilità, inutile dire il contrario, però se non vi piacciono, ovviamente potrebbe essere un problema. HDR10+, vetro protettivo, ma non sappiamo quale, non sappiamo se è un Gorilla Glass, o di un'altra azienda, o che versione è. C'è il Moto Display, l'avete intravisto prima, quindi quando interagite, sfiorate il display, oppure sollevate lo smartphone, oppure arriva una notifica, ecco qua, si riaccende e vi dice per esempio, se ci sono delle notifiche. È interattivo, potete rispondere, ma non è un Always-On Display, quindi lo smartphone, quando è in stand-by così, come vedete non mostra nulla. Ecco, questa cosa mi manca, mi manca un Moto Display che sia attivabile sempre, non solo quando si solleva lo smartphone, quando si sfiora, perché magari io lavoro, ho lo smartphone lì su uno stand, e voglio buttando un occhio, notare se mi sono perso qualche notifica, e non si può fare, perché sempre attivo, purtroppo non rimane. Parliamo poi di software, qui abbiamo Android 13, aggiornato con le patch di aprile 2023, Motorola garantisce due versioni di Android aggiornate, quindi fino ad Android 15 almeno, e cinque anni di patch di sicurezza. Non sarà velocissima, ma questa promessa ci piace. Come dicevamo, il software quindi è molto standard, molto classico, molto Motorola. C'è però il Ready for Wireless, Ready for Wireless che troviamo, che troviamo da qualche parte, no, non lo trovo qui, lo troverò quindi nella barra delle notifiche, vabbè, insomma, sostanzialmente la possibilità di fare mirroring dello smartphone, ma soprattutto di utilizzare la modalità desktop di Motorola, solo wireless, perché l'uscita USB-C non è con uscita video. C'è il Game Time, quindi per la parte di gaming, eccolo qua, quindi potete inserire i giochi e poi scegliere che cosa, a cosa deve servire questo Game Time, e poi abbiamo le Moto Action, quindi con le Gesture, abbiamo anche una discreta personalizzazione, come sempre ormai, quindi possiamo cambiare il colore dell'accento del sistema, possiamo cambiare la forma delle icone, possiamo cambiare il font, come ho fatto io, potete cambiare l'animazione del lettore di impronte digitale, insomma, è un Android stock con un pizzico di Motorola, ancora una volta, per personalizzarlo un po'. Speriamo che gli aggiornamenti siano, sappiamo che saranno a lungo, speriamo che siano anche puntuali, per il resto appunto un software che non ha particolari sorprese, ma che ha le solite classiche chicche da parte di Motorola. E Motorola si distingue anche nelle fotocamere, perché? Perché sono solo due, e per fortuna, molto meglio, due che tre o quattro, ma da due megapixel o da cinque megapixel, non ci servono a niente. Qui abbiamo una principale da 50 megapixel f1.4, f1.4 è un valore record, con stabilizzazione ottica dell'immagine, e invece una grande angolare da 13 megapixel f2.2. Frontalmente nel display, invece, una 32 megapixel f2.4. Ok, vediamo quindi un po' l'interfaccia di scatto, che è molto classicamente Motorola, qui con il tasto di scatto per andare all'andare, se mi riesce di dirlo, andare alla grande angolare, non è velocissimo, lo vedete, e poi abbiamo la macro, che sempre grande angolare è, perché appunto c'è l'autofocus, ma vi permette appunto di, come dire, eccolo qua, di avvicinarvi di più rispetto a se selezionate, in realtà anche se selezionate il grande angolo, più o meno, è lo stesso, è una sorta di ritaglio, secondo me, c'è un po' di ritaglio sulla fotocamera grande angolare. Altre opzioni di scatto, nascoste qui sotto, idem per i video, dove per esempio avete anche il frame rate, e poi abbiamo la modalità ritratto, professionale, e su altro abbiamo le altre modalità di scatto, fra cui anche la visione notturna, che è sostanzialmente la modalità notturna manuale di questo smartphone. Peccato che i video si registrino a 60 fps solo in Full HD, se mettete 4K torna a 30 fps, vabbè, peccato. Come fare le foto? Allora, voglio dirvi un paio di difetti, e probabilmente li vedrete anche da un paio di foto che vedrete scorrere davanti a voi, un paio di foto non perfettamente a fuoco, o almeno non era a fuoco esattamente quello che volevo io, il soggetto principale, e poi invece anche una foto, uno o due foto, dove il bilanciamento del bianco non era precisissimo, e questo è un po', è stato un po' un peccato, perché diciamo ha un po' sciupato la foto se vogliamo, però posso anche dire che per il resto le foto le state vedendo, sono foto assolutamente più che buone, sono foto in molti casi da assolutamente top di gamma, che non deludono assolutamente, e che offrono appunto tanto dettaglio, ottimi colori, appunto i colori poi non dipende per forza dal punto di bianco, nel senso il punto di bianco poi è come questi colori vengono calibrati rispetto al punto di bianco, ma i colori di per se li vedete sono, quando il punto di bianco è calcolato giusto, sono vividi, sono molto belli. La macro, vabbè, avete visto qualche scatto macro, non è niente di rivoluzionario, e anche la frontale, non è che mi abbia fatto impazzire, c'è sempre un po' di, non lo so, un po' di patina bellezza, non lo so, insomma sì, la frontale è ok, non è secondo me all'altezza delle principali, non è uno smartphone camera phone, non si compra per la fotocamera, nel 90% dei casi però, le foto le state vedendo, non è che ci abbia bisogno di dire molto altro, fa assolutamente foto assolutamente molto più che adatte, non sono rimasto invece soddisfatto dalla parte video, i 4K30 sono un po' tremolanti, tra l'altro c'è un piccolo glitch in una clip che ho registrato, la grande angolare è solo full HD, la frontale per fortuna però è invece 4K, niente 4K60, stabilizzazione così così, qualità non perfetta, insomma, sui video secondo me con degli aggiornamenti si può sicuramente andare a migliorare. Andiamo ad aprire Call of Duty Mobile, siamo tornati su Call of Duty Mobile, visto che mi hanno chiuso Apex Mobile, per quanto riguarda, intanto guardate lo smartphone che è praticamente simmetrico, che è una gioia per gli occhi, ah grazie Motorola, grazie per, no un altro aggiornamento di dati, no ogni dannata volta, grazie per aver curato anche questo aspetto. Qui abbiamo il tastino per il game time, se mi riesce di premerlo, eccolo qua, tra l'altro molto comodi qua i controlli manuali, perché quando si gioca, secondo me, bypassare il controllo automatico della luminosità è sempre una grande comodità. Eccoci qua, quindi in gioco l'audio è stereo Dolby Atmos, non potentissimo, diciamo ok, non è la sua caratteristica di rilievo, ecco probabilmente anche la sua sottigliezza non ha aiutato a inserire magari degli speaker un pochino più grandi e quindi un pochino più performanti. Andiamo a vedere comunque al volo le prestazioni di gioco, perché vi ho detto che sì, in effetti scalda un po', ma comunque questo processore Dimensity, che magari farà storcerlo in naso a qualche fan Qualcomm, comunque tutto sommato si comporta assolutamente bene e vi permette appunto di giocare a titoli come questo, anche a dettagli alti, senza particolari problemi e senza neanche perdere un solo frame di gioco, giusto se trovassi un altro terrorista per darmi un po' di soddisfazione, ma niente, sento sparare e non vedo nessuno. Vai giù terrorista! Ok, direi che possiamo uscire il nostro nel mondo per portare alla pace, l'abbiamo fatto. Batteria, 4400 mAh, vabbè, ovviamente non vi aspettavate una 5000 mAh in uno smartphone così sottile, no? Ecco, infatti non c'è, c'è una 4400, però se non lo fa Motorola, una cosa del genere, chi lo deve fare? Infatti l'ha fatto Motorola, l'ha fatto Motorola e ha fatto un po' la magia, la sua solita magia, ovvero di tirar fuori molta più autonomia di quella che un altro produttore potrebbe fare a parità di batteria. Quindi l'autonomia è molto buona, a fine giornata ci si arriva sempre, anche con un utilizzo abbastanza intenso, non è uno smartphone da due giorni di autonomia, probabilmente con un utilizzo veramente stress a fine giornata, probabilmente si spegnerà insieme a voi, ma per il resto molto bene. Ma soprattutto, altri spunti davvero premium, ricarica a 68 Watt, l'alimentatore avete visto è incluso, ma anche ricarica wireless a 15 Watt, che è qualcosa che, no, non si vede molto spesso. Siamo quindi alle conclusioni per questo Motorola Edge 40, mi è piaciuto, più che altro perché è uno smartphone diverso, non è la prima volta che lo dico di uno smartphone Motorola, tra l'altro, quindi bene Motorola che prosegui su questa strada, è questo smartphone, è uno smartphone che si distingue appunto per materiali, qualità costruttiva, sottigliezza, leggerezza, ma poi anche perché ha degli spunti premium, l'ho già detto un po' di volte, ovvero impermeabilità, supporto e sim, ricarica wireless, ricarica super rapida, fotocamera con apertura f1.4, che come vi ho detto è un'apertura record, però venduto a un prezzo da ormai purtroppo viene da dire medio gamma, 599 euro che diventano 529 euro, sia su Amazon che sul sito di Motorola in questo momento si alza e si riabbassa, ma 529 è insomma il prezzo promozionale a cui sembra comunque tornare quasi sempre questo smartphone, che devo dire è un buon prezzo, non è un prezzo stracciato, non è un best buy, ma in questo 2023 di prezzi che di buono hanno veramente nulla, lui quantomeno rimane davvero nella fascia di medio gamma, però offrendo qualcosa in più. Ecco, se cercate qualcosa di diverso, soprattutto a partire dalla qualità costruttiva, dal materiale di questo smartphone e dalla sottiglietta e dalla leggerezza, io prenderei assolutamente in considerazione questo Motorola Edge 40. Grazie per essere arrivati fino a qui, se il video vi è piaciuto ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, un saluto da Emanuele Cisotti per Android Word.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.